Chi e come ha deciso quale vaccino bisognasse comprare durante la pandemia? Beh, abbiamo scoperto che la maggior parte dei governi europei per farlo ha chiesto una mano alle grandi società di consulenza globali come McKinsey, Deloitte, KPMG o Accenture. Malgrado l'esistenza di potenziali conflitti di interesse è grazie a una legislazione sul piano della trasparenza insufficiente, ma ben guardare queste società da decenni influenzano l'economia e la politica e la pandemia ha messo questi legami a nudo, già perché c'è influenza influenza, c'è quella del covid e quella dei consulenti e se la prima ha colpito le persone, la seconda ha colpito le istituzioni di mezzo mondo, anche quelle svizzere. Siamo nel febbraio 2020. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha ancora dichiarato il covid-19 emergenza sanitaria globale. Lo farà un mese dopo, l'11 marzo, per bocca del suo direttore Tedros Ghebreyesus. Siamo giunti dunque alla conclusione che il covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Eppure molti lo sanno, o almeno lo sospettano da tempo. Tanto che a febbraio a Berna si è già creato il gruppo di lavoro per l'approvvigionamento dei vaccini in seno all'Ufficio federale della sanità pubblica. Sul tavolo una lista di 200 candidati vaccini da selezionare. A guidare il gruppo di lavoro di una quindicina di persone Nora Kroenig, capo della divisione Affari Internazionali e rappresentante svizzera all'OMS Europa. Tra gli esperti esterni c'è Thomas Zeltner, ex capo dell'Ufficio federale della sanità pubblica per 18 anni e ora alla guida della fondazione WCO. È Zeltner a invitare nel gruppo di lavoro un altro consulente esterno, Andrin Oswald, ex Novartis, ex direttore responsabile dei partenariati con l'industria farmaceutica per la potente Bill & Melinda Gates Foundation ed ex consulente McKinsey. L'anno successivo toccherà poi a Lawrence Borer. Una lunga carriera nelle big pharma e infine consulente nonché fondatore della sua one-man company, la Health Value Consulting. Il 19 marzo 2020 il gruppo di lavoro vaccino Covid-19 si riunisce per la prima volta proprio a Berna Lieberfeld, nella sede dell'Ufficio federale dove abbiamo appuntamento con Nora Kroenig. Eravamo in una situazione in cui dovevamo occuparci sia di valutare quali fossero le soluzioni migliori sviluppate in laboratori in giro per il mondo, sia di dover vaccinare concretamente le persone nel paese. Ed è per questo che sin dall'inizio abbiamo aumentato le competenze presenti al tavolo e siamo andati a cercare all'esterno quelle competenze di cui avevamo bisogno. L'Ufficio federale si rivolge quindi alla società di consulenza McKinsey. Quando si chiede questo tipo di consulenze si hanno mandati molto precisi su questioni molto precise. In questo caso si trattava di ottenere un parere supplementare sullo sviluppo di diversi candidati vaccini per decidere quale avrebbe acquistato la Svizzera e come si sarebbe organizzata di conseguenza. McKinsey offre il suo aiuto pro bono, ma l'Ufficio federale rifiuta la proposta e concorda una tariffa scontata a 535.000 franchi. E' quanto si legge sul contratto che sono riuscito a ottenere con difficoltà e dopo mesi di mediazione. Ma perché non accettare l'offerta? Credo che sia una responsabilità dello Stato quella di pagare per i consigli che riceve per il lavoro effettuato. Ma anche risparmiare i soldi dei contribuenti? Certamente, ma è altrettanto importante avere una relazione contrattuale solida con un contratto a cui apparentemente avete avuto accesso. Già il contratto dove si legge, tra le altre cose, che i dati condivisi dalla Confederazione saranno trasmessi e o memorizzati anche al di fuori della Svizzera, in particolare in Germania e negli Stati Uniti. Che, fatte salve eventuali disposizioni esplicite e contrarie, le parti concordano che McKinsey può utilizzare i risultati del lavoro anche in altri progetti senza fare riferimento alla Confederazione, ma previa consultazione con quest'ultima. E dove si obbliga la Confederazione a consultare la società di consulenza prima di divulgare materiali protetti da copyright o informazioni divulgati da McKinsey nel corso dell'appalto in quanto segreti commerciali o aziendali. Ma c'è un problema. Come possiamo essere sicuri che le informazioni fornite da McKinsey non siano volte in qualche modo a influenzare la scelta sui vaccini, visto che McKinsey offre i propri servizi anche ad altri clienti, come ad esempio altri governi e a molte case farmaceutiche. Nel contratto viene specificato poco o nulla al riguardo. L'ho chiesto allora a Thomas Zedner, co-responsabile del gruppo di lavoro. Ottima domanda. Eravamo consapevoli di questo rischio ed è per questo che eravamo molto contenti di avere Andrin Oswald nel gruppo di lavoro. Eravamo convinti di aver bisogno di qualcuno o più persone che conoscevano molto bene il mercato, le tecnologie e in più, e questo era molto importante, questo piccolo mondo di persone che lavorano nell'industria farmaceutica. Andrin Oswald è stato incredibile. Conosceva tutti i responsabili di tutte le aziende, Pfizer, eccetera, avendo lavorato lui stesso a Novartis e non solo. Non mi resta che incontrare Andrin Oswald. Dopo qualche mese riesco a ottenere l'intervista e lo raggiungo a Zurigo. Grazie alla sua presenza a livello mondiale e a una conoscenza dell'industria, del settore, su quello che sta succedendo, per me McKinsey era una fonte di informazione fondamentale per assicurarsi di prendere una decisione sulla base delle migliori informazioni disponibili. Ma come si può essere sicuri che le informazioni McKinsey non avessero un duplice scopo? Capisci cosa intendo? Assolutamente, prima di tutto bisogna avere una certa fiducia, non necessariamente nell'azienda, ma nella persona. Bisogna insomma guardarla negli occhi e capire se è onesta e se ha lavorato correttamente. Quindi è il rapporto umano. Se non c'è questa fiducia non è possibile lavorare insieme. In seguito la seconda cosa non bisogna fidarsi. Eravamo molto contenti di lavorare con McKinsey perché avevamo già lavorato nel passato con gli esperti sanitari McKinsey. Il loro compito è stato proprio quello di valutare la lista dei 200 potenziali candidati vaccini. Hanno quindi fatto un lavoro di ricerca, non hanno fatto scelte per il governo, ma solo fornito informazioni. Se McKinsey si è occupata di valutare i candidati vaccini scopre invece che un'altra società è stata chiamata per le questioni legali. Avevamo incaricato un altro gruppo con cui avevamo lavorato già nel 2009, ovvero KPMG, un'altra società di consulenza che ci ha sostenuti nella formulazione dei contratti d'acquisto dei vaccini. Ed ecco i due contratti che l'ufficio federale firma con la società di revisione e consulenza KPMG. Contratti non ancora noti al pubblico. Il primo per valutare il preaccordo col produttore Moderna, firma 8 maggio 2020, costo 15.000 franchi. E il secondo appunto per la stesura dei contratti di acquisto dei vaccini, firma il 18 luglio 2020, questa volta il costo invece di ben 807.000 franchi. E questa volta esplicitamente si dichiarano i potenziali conflitti di interesse nero su bianco. Il committente prende atto che KPMG è il revisore dei conti delle seguenti società, l'ONSA AG, l'Università di Oxford, Pfizer, Merck Germania e Molecular's Partner AG. Tutto in bella vista. Tutto tranne quello che qualcuno non vuole far sapere ai cittadini. Una pennellata di nero impedisce infatti di leggere ulteriori potenziali conflitti di interesse. Il cliente è consapevole che Omissis fornisce servizi legali nell'ambito della conformità alla proprietà intellettuale per Omissis. È pertanto escluso che Omissis o la Confederazione siano rappresentanti in una causa legale. Il cliente accetta che KPMG possa utilizzare Omissis come subappaltatore per la fornitura di servizi legali. Ma chi si cela dietro questi Omissis? Questo ed altro lo abbiamo chiesto direttamente a KPMG, che ha rifiutato di concederci un'intervista e si è limitata a comunicarci per e-mail. Nella misura in cui esisteva un mandato di audit con questi fornitori, la loro identità è stata rivelata all'Ufficio federale. I fornitori hanno condotto le trattative senza la partecipazione di KPMG Svizzera. Queste e altre misure organizzative volte a garantire la riservatezza hanno permesso di escludere qualsiasi conflitto di indipendenza e interesse. Quando però chiedo di poter discutere dei potenziali conflitti di interesse dal momento che KPMG fornisce consulenza ad altri governi, mi rispondono che KPMG è una rete di società nazionali che operano in modo indipendente l'una dall'altra in termini legali e territoriali. KPMG Svizzera non ha fornito consulenza a governi stranieri per l'acquisto dei vaccini. Eppure l'esperto Andrino Oswald, che conosce bene l'industria farmaceutica e il mondo delle società di consulenza, essendo stato lui stesso un consulente McKinsey, non ha dubbi. Per quanto riguarda KPMG era per una questione legale. Abbiamo cercato una competenza specifica per gestire i contratti tra il governo e le imprese, soprattutto nel contesto della pandemia. KPMG aveva già sostenuto dei progetti simili, quindi aveva una competenza esattamente in questo settore. Insomma, KPMG garantisce di lavorare per compartimenti stagni, cioè le filiali nazionali non comunicherebbero fra di loro. Eppure ad ascoltare Andrino Oswald si capisce, si intuisce, che sono stati scelti proprio in virtù delle conoscenze internazionali. E ad ascoltare Thomas Zeltner, ancora per quanto riguarda McKinsey, beh, si intuisce che i compartimenti non sono sempre così stagni. McKinsey, come le altre società di consulenza globali, hanno avuto contratti con i governi di mezza Europa, quindi lo sapevano che... Certo, ma anche noi lo sapevamo. Anche se con qualche difficoltà sapevamo più o meno quanto pagavano gli altri paesi. Insomma, sembrerebbe il classico segreto di Pulcinella, custodito da confidenzialità e cosiddetti muri cinesi, ma che all'occorrenza è difficile, se non impossibile, assicurare. Mi chiedo allora, dobbiamo davvero fidarci? Di questo e di altro avrei voluto parlare con McKinsey in Svizzera. Ancora una volta l'intervista ci è stata negata, solo qualche generica risposta per iscritto. McKinsey valuta rigorosamente tutti gli studi prima di intraprendere qualsiasi lavoro nel settore pubblico, anche se appaltato con urgenza. Ciò include verifiche di conflitti di interesse reali o percepiti. E ancora, McKinsey è trasparente con tutti i suoi clienti in merito alle politiche di riservatezza e di conflitto. I clienti di McKinsey sanno che lo studio terrà al sicuro le loro informazioni riservate. Quando poi chiedo di quali verifiche si parla e se fra i propri clienti ci sono produttori di vaccini anti-covid e perché non vi sia traccia nel contratto di questi legami, la risposta è della serie prendere o lasciare. McKinsey ha affrontato questi argomenti in precedenza e quindi non ha altro da aggiungere in questo momento. A non voler rilasciare alcuna intervista, infine è stato anche il presidente della Confederazione, Monsieur Pandemi Alain Berset, a cui abbiamo rivolto più volte l'invito ad una riflessione su questo fenomeno delle società di consulenza. Ma a rifiutarsi anche un altro membro del gruppo sui vaccini, lo zurighese Lorenz Bohrer. Bohrer lascia il gruppo a novembre 2022 per diventare direttore Novavax Svizzera, la società che produce uno dei vaccini acquistati dalla Confederazione otto mesi prima quando Bohrer era ancora nel gruppo. Un caso da manuale di revolving doors o porte girevoli per cui chi prima lavorava nel pubblico passa al privato e viceversa, sollevando però il dubbio che vi siano conflitti che ne impedirebbero il passaggio. E quando chiediamo un'opinione riguardo a Nora Kronik o Thomas Zettner, le risposte sfiorano l'imbarazzo. Senta, non risponderò a questa domanda. Ma sì, però vede, ho lasciato il gruppo che lei sa nel mese di ottobre e quello che è successo e come è successo con il signor Bohrer bisognerebbe chiederlo a lui. Quanto a Novavax, l'azienda mi risponde che Lorenz Bohrer non può rilasciare alcuna intervista perché, soggetto alla riservatezza anche dopo la fine del suo rapporto di lavoro, è che ha firmato tutti i documenti pertinenti. Quello delle porte girevoli è un meccanismo frequente fra settore pubblico e privato e viceversa. E soprattutto grazie alle società di consulenza che sembrerebbero fare da ponte fra l'uno e l'altro. O addirittura formare, fornire le persone giuste nei posti chiave. Per chi come Lorenz Bohrer passa dal pubblico al privato c'è chi ha fatto il contrario, come Alexandra Fischer. Una lunga esperienza in GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Pharma Consulting Group, da luglio 2022, dopo aver collaborato al gruppo, viene assunta all'ufficio federale. Basta infatti allargare lo sguardo al mondo delle grandi aziende, ma soprattutto delle ex regie federali, per capire meglio il fenomeno. Sono molti gli ex consulenti nei consigli di amministrazione delle aziende, ad esempio. Nelle banche in primis UBS e Credit Suisse soprattutto, ma anche la cantonale zurichese, quell'argoviese, basilese, ginevrina e vodese. Ci sono poi le assicurazioni, Swiss Re e Zurich Insurance, e le multinazionali del calibro di Nestlé, ABB, Lafarge Olcim, Tetralaval, Chab, Richemont, che contano diversi ex consulenti nei propri consigli di amministrazione. E c'è anche la Migros. Numerosi ex consulenti sono nella direzione del UEF, il World Economic Forum. Accenture stessa è una dei principali sponsor del forum di Davos. Manca qualcuno? Ovviamente le case farmaceutiche, Roche e Novartis, in prima fila. Molti ex consulenti li ritroviamo però anche nelle direzioni delle ex regie federali. Ce n'è per ogni gusto, settore, genere o specializzazione. Come le poste, dove il direttore generale, Roberto Cirillo, è stato direttore associato presso McKinsey, da cui provengono anche il responsabile servizi logistici, Jonas Kramer, e il capo dell'informazione, Wolfgang Eger. Non potevano poi mancare le ferrovie federali. La responsabile passeggeri, Veronique Stefan, ha lavorato due anni a McKinsey, mentre Johan Decker, il capo dell'informazione, tre in Accenture. Quattro anni in Boston Consulting per Eugen Stermetz, l'attuale responsabile finanziario di Swisscom, così come sono quattro gli anni passati in Bain & Company dal suo omologo in Swiss, Marcus Binkert. E sempre in Swiss, Cristina Förster ha iniziato la sua carriera presso Boston Consulting Group. Alla SRG SSR, l'attuale consigliera Alice Zakfa-Kleisli ha lavorato in Boston Consulting Group per quattro anni, ma un ex consulente si trova anche nel consiglio di amministrazione dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FIDMA, è Alberto Franceschetti, ex partner McKinsey per dieci anni ed ex consulente Bain & Company dal 2003 al 2008. D'altra parte le ex regie federali hanno subito profondi cambiamenti negli ultimi anni e per farli questi cambiamenti hanno chiesto una mano alle società di consulenza e ai consulenti, consulenti che prima o poi, almeno in parte, sono finiti nei consigli di amministrazione delle ex regie federali e hanno portato con sé competenze, relazioni e uno stile manageriale propenso, sa va son dire, a ricorso a nuove consulenze. Una tendenza che ha contagiato sempre di più il settore pubblico, non solo e non tanto in Svizzera, ma soprattutto in Europa, come mi spiega uno dei principali studiosi del fenomeno, il professor Andrew Sturdy dell'Università di Bristol. Credo che una delle ragioni sia che i governi hanno ridotto il numero di dipendenti pubblici e di manager del settore pubblico. Un'altra è che lo status delle competenze manageriali del settore privato e delle società di consulenza è cresciuto. Quindi le persone si rivolgono a loro per ottenere credibilità o legittimità anche se hanno il personale. Penso anche che politici e funzionari siano sotto pressione e quindi si rivolgano a corpi esterni per ottenere un aiuto extra, ma anche per avere una protezione, se volete, per dire guarda, abbiamo coinvolto McKinsey o chiunque altro, in modo che possiate giudicarci in base a questo, piuttosto che in base alla loro competenza in materia. Ma se i governi lo fanno per questo, quali sono le ragioni per le società di consulenza? La ragione per cui invece le società di consulenza lavorano sempre di più con il settore pubblico penso sia in parte perché si tratta di un business relativamente sicuro. In altri termini, è sicuro che i governi paghino e, anche nel caso i consulenti sbagliassero, sarebbe nell'interesse di entrambi nascondere che non ha funzionato. Ma lavorare per il settore pubblico significa anche aver la possibilità di influenzare le scelte politiche e quindi, se riescono a entrare in contatto con il governo e riescono a influenzare il funzionamento della politica, possono farlo in funzione dei propri interessi. Ad esempio, i servizi finanziari o le aziende farmaceutiche sono grandi clienti delle società di consulenza, che possono quindi influenzare la loro attività nella definizione delle politiche relative a questi settori. E quindi è nel loro interesse lavorare con i governi. I governi sono clienti relativamente inesperti e quindi possono vendere facilmente nuovi business. Per la maggior parte dei casi, i governi sono clienti meno sofisticati. Ma quando è iniziato tutto ciò? È cominciato da quando il mercato è il mercato e lo Stato non è più lo Stato. Da quando alla Casa Bianca, negli anni Ottanta, è arrivato un certo Ronald Reagan e a Londra, Downing Street, una certa Margaret Thatcher. Da quando il muro di Berlino è crollato e con esso è crollata l'ideologia statalista per definizione. Da quando insomma la mano invisibile del mercato ha trovato la chiave per aprire la stanza dei bottoni e una volta entrata ha privatizzato e ridimensionato il ruolo dello Stato grazie anche ai consigli delle società di consulenza, le quali nel 2031 potrebbero arrivare a 1430 miliardi di fatturato. E così, di fronte alle complessità, alle nuove sfide, alle emergenze mondiali come lo è stata la pandemia e dopo 30 anni di cura dimagrante all'insegna di privato e più efficiente, beh lo Stato e la politica che è chiamata a guidarlo non può più farne a meno e le società di consulenza globali sono ovunque e indispensabili, ma a nessuno è dato sapere esattamente come operano, a partire dalla più controversa fra tutte, la McKinsey & Company. Capitolo 1. James Oscar McKinsey, dopo una giovinezza in un piccolo paese del Missouri negli Stati Uniti, segue corsi di pedagogia, poi legge all'Università dell'Arkansas e contabilità alla St. Louis University per finire a Chicago. Capitolo 1. Iniziò tutto a Chicago nel 1926 dove James Oscar McKinsey, oramai esperto in contabilità, fondò la società di consulenza omonima, convinto di poter aiutare le grandi aziende ad aumentare i profitti. No, non funziona nemmeno così. Aspetta. Capitolo 1. Sulla sua carta d'identità, la voce luogo di nascita, ci sarà sempre scritto Chicago 1926, ma è a New York. E grazie al suo secondo direttore generale, Marvin Bauer, che la McKinsey & Company conquistò gli Stati Uniti, l'Europa e infine il mondo diventando la prima, la più controversa, la più influente e la più ambita società di consulenza globale, tanto da guadagnarsi il soprannome di The Firm, la ditta con la D maiuscola. Insomma, un posto di riguardo fra i colossi della consulenza globale, quello di McKinsey & Company, non c'è dubbio. Come sa bene, il tre volte premio Pulitzer è coautore del libro Quando McKinsey Arriva in Città, l'influenza nascosta della società di consulenza più potente al mondo, il giornalista investigativo del New York Times, Walt Pogdanich. McKinsey è una società di consulenza molto grande e molto rispettata, la più importante, la più prestigiosa, la più apprezzata società di consulenza al mondo. Di conseguenza ha acquisito molto potere. Sono grandi, come ho detto, potenti ma anche segreti. Non c'è regolamentazione per cui debbano rendere conto di quello che fanno. La consulenza alle aziende farmaceutiche è uno dei loro principali centri di profitto. Vengono pagati per dire al governo cosa fanno i loro clienti. E questo, a mio avviso, è un conflitto di interessi. E credo che le persone normali lo considerino tale. Se devi consigliare il governo sui vaccini, allora non dovresti consigliare i produttori di vaccini, perché non è così che dovrebbe funzionare il sistema. Insomma, un'affittarete di esperti a disposizione dei governi, con sempre meno competenze e di fronte a emergenze sempre più complesse. Una sorta di Mr. Wolf, ricordate, che bussa alla porta. Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Ma che una volta entrato in casa, non se ne va più. Hanno una presenza simile a un fantasma, ma siedono al tavolo dove vengono prese le decisioni che riguardano i cittadini e la comunità mondiale. Sono dei facilitatori e questo è un altro modo in cui sono stati descritti. Voglio dire, ci sono aziende che fanno cose che forse non dovrebbero fare. E McKinsey trova il modo perché possano farlo. Questo è uno dei loro ruoli. In Francia, una relazione della Commissione d'inchiesta del Senato, 16 marzo 2022, conferma che la spesa pubblica per i contratti di consulenza è più che raddoppiata tra il 2018 e il 2021. Solo nell'ultimo anno il totale stimato arriva a un miliardo di euro. Il presidente Emmanuel Macron, da fine 2022, è sotto inchiesta della Precura nazionale finanziaria per presunti favoritismi nella gestione della campagna vaccinale, a fronte di un finanziamento non dichiarato da parte dell'azienda alle presidenziali 2017 e 2022. Insomma, persino il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, macroniano di ferro, è costretto ad ammettere. Lo ammetto, ci siamo spinti troppo oltre, da anni ricorriamo troppo alle società di consulenza che si tratti di questo governo, di governi precedenti o di maggioranze precedenti. Penso che ci sia stata una deriva. Lo scandalo è stato subito ribattezzato consultocrazia dalla stampa, mentre per altri la parola da utilizzare è infiltrazione, da cui il titolo di un'inchiesta scritta a quattro mani da due giornalisti della rivista francese Lobs, secondo cui quella della collaborazione fra società di consulenza e lo Stato è la storia di un putsch progressivo che dall'interno ha cambiato la Francia. L'esempio più concreto è stato quello della pandemia. Per 18 mesi il Ministero della Salute ha distaccato presso il Ministero e le agenzie pubbliche francesi una cinquantina di consulenti, a volte di più provenienti da diverse società di consulenza, ma in particolare da McKinsey per gestire le strategie sui vaccini. Abbiamo scoperto qualcosa di terribilmente inquietante nel modo in cui operano le società di consulenza. Si tratta del loro modo di integrarsi totalmente nelle amministrazioni, cioè di avere email dell'amministrazione pubblica, di avere badge dell'amministrazione pubblica, di non avere sui loro rapporti il logo McKinsey, bensì il logo del Ministero per cui lavorano, il Ministero della Salute. E così si finisce per creare una confusione in cui il consulente che è pagato da 4 a 5 volte di più di un dipendente pubblico, ricopre il ruolo del funzionario di cui lui stesso aveva suggerito la soppressione vent'anni prima. La Germania non è da meno. Berlino ha speso 430 milioni di euro in consulenze nel 2020, un aumento del 46% rispetto all'anno precedente quando era già scoppiato il Berater Affere. Milioni di euro in consulenze pagate dal Ministero della Difesa all'epoca guidato dall'attuale Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per l'ammodernamento dell'esercito. Le conclusioni di una commissione d'inchiesta parlano di rapporti troppo stretti fra il Ministero e i consulenti, di violazioni da parte di militari e funzionari di primo piano e sottolineano come gran parte del lavoro poteva essere gestito dalla pubblica amministrazione. Domanda, ma non è stata forse la von der Leyen ad aver nominato cinque anni prima Catherine Suther, ex direttrice McKenzie Germania, a segretaria di Stato per gli armamenti? Infine, in Italia, è il governo Conte II ad affidarsi all'inglese PricewaterhouseCoopers per il cosiddetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Post-Pandemia, ovvero un pacchetto di 222 miliardi di euro concordato con l'Unione Europea. Nel 2021 cambio di guardia, questa volta il governo Draghi ha chiederato a McKinsey di aiutarlo, come si legge nel contratto, per la finalizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano e dei relativi progetti di riforma e investimento. Costo dell'operazione è 30.000 euro, cifra simbolica che il governo decide di pagare dopo che McKinsey si era offerta di farlo pro bono, ancora una volta. Per un politico il ricorso alle società di consulenza è come una droga. Una volta iniziato non può più farne a meno, sia perché è rassicurante, sia perché non ha i mezzi nella sua amministrazione per fare le stesse cose. Quindi offrire questi servizi gratuitamente è come dare ai ministri l'abitudine di ricorrere a società di consulenza. Se hai bisogno di qualcosa te la facciamo subito, molto velocemente, gratis. E il ministro inevitabilmente dirà di sì. E poi, a poco a poco, la consulenza che era gratuita diventa costosa e poi ancora più costosa. E questo per quanto riguarda solo i nostri vicini, Francia, Italia e Germania, senza considerare gli scandali scoppiati nel Regno Unito, in Australia, in Canada e negli Stati Uniti, dove nel 2021 McKinsey ha raggiunto un accordo da 573 milioni di dollari per risolvere decine di cause legali legate al suo ruolo nei decessi per overdose di un potente analgesico sintetico. O in Sudafrica, dove McKinsey è preferito pagare 63 milioni di dollari per mettere a tacere accuse di corruzione. McKinsey è la più nota, ma non è la sola. Insieme a Deloitte, Price, Waterhouse & Coopers, Enst & Young, Accenture, KPMG, Boston Consulting Group o Bain & Company, è presente in tutto il mondo e in ogni settore del mercato, in soccorso a singoli ministeri, interi governi, democrazie e autarchie del calibro di Cina, Russia o Arabia Saudita, ma anche di organismi sovranazionali come la Commissione Europea. Tanto che un recente rapporto della Corte dei Conti Europea, coordinato dal giudice François Roger Casalà dal titolo Consulenti esterni presso la Commissione Europea, non lascia dubbi. Il sottotitolo? Una gestione migliorabile che pare un eufemismo. Il ricorso a consulenti, si legge nel rapporto della Corte dei Conti, ha comportato potenziali rischi di eccessiva dipendenza, di vantaggio competitivo, di concentrazione dei prestatori e di conflitti di interesse. La Commissione non monitora, gestisce o mitiga a sufficienza tali rischi a livello di istituzione. E quindi cosa fa la Commissione? La stessa cosa che fanno tutti, in ogni caso che fanno tutti gli enti pubblici quando hanno a che fare con le società di consulenza e cioè chiedono loro, ed è quello che diciamo nel nostro rapporto, di firmare come qualsiasi altro fornitore una dichiarazione di confidenzialità e che non sono a rischio di conflitti di interesse, ma è puramente dichiarativo. Basta? No. Questo ha due conseguenze. Crea un vantaggio indotto sia per la società di consulenza stessa, sia per alcuni dei suoi clienti, il che, se avvenisse, sarebbe una violazione dell'obbligo di confidenzialità, che è molto grave. Mi scusi, c'è un altro rischio, che è quello di falsare la concorrenza. E rafforzare la dipendenza, la concentrazione, quello che abbiamo scritto nel rapporto. Questo rischio esiste. Per fare un esempio molto classico, quando la commissione, ma non è la sola, fa appello a dei consulenti per definire il progetto, gli obiettivi, le mansioni, insomma il mandato, talvolta sono gli stessi consulenti che eseguono la prestazione. O se non sono proprio gli stessi, alla fine sono molto vicini, diciamo così. Redigere il progetto è una filiale e come per miracolo ad eseguirlo, ci pensa un'altra filiale. Una situazione che l'Unione Europea del Servizio Pubblico, l'EPSU, denuncia da anni e che recentemente lo ha fatto Nero Bianco nel suo rapporto svuotati, la dipendenza dei governi centrali d'Europa e della Commissione Europea dal settore privato. Abbiamo davanti a noi un paradosso che si può riassumere in due parole. Da un lato abbiamo uno sviluppo della precarietà all'interno della funzione pubblica, con un numero sempre maggiore di lavoratori a contratto, molto mal pagati, senza la sicurezza del posto di lavoro. E dall'altro lato un mercenarismo, cioè un gruppo, una minoranza di società di consulenza, pagate profumatamente per sostituire spesso, non sempre, le carenze dei servizi pubblici. Ed è ciò che ha denunciato ad esempio la Commissione di inchiesta del Senato in Francia. Secondo EPSU, solo nel 2019 e 2020, le società di consulenza globali rappresentavano il 14% del fatturato complessivo delle consulenze esterne in 12 paesi europei. Dal 31% in Grecia, al 22% in Danimarca e nel Regno Unito, al 17% in Spagna, fino al 9% in Francia e in Germania. Insomma, prima si riduce personale e competenze nei servizi pubblici per renderli meno onerosi e più efficienti. Poi però, davanti a emergenze come la pandemia, si chiede una mano agli stessi consulenti che avevano suggerito la riduzione. Lo chiedo al direttore di Accountancy Europe, una delle principali organizzazioni di lobbying della consulenza a Bruxelles. E, a sorpresa... Non sono in disaccordo con quanto appena detto. Credo che fosse l'ideologia dell'epoca. Penso che stia cambiando e, se si guarda il lavoro dell'Europa in questo senso sulle questioni fiscali, c'è una richiesta di reinvestimento anche nei servizi fiscali centrali, ma anche nel controllo. Quindi, i consulenti ci hanno guadagnato al momento del disinvestimento pubblico e ora consigliate di reinvestire nel pubblico? I consulenti hanno fatto quello che facevano tutti gli altri all'epoca e hanno risposto al sistema di credenze, se posso chiamarlo così, che c'era all'epoca. Ma attenzione, chi ha deciso di disinvestire sono stati i governi. Ma per Epsu c'è un altro problema. A mio parere, i conflitti di interesse sono insiti nelle società di consulenza, laddove i governi non conoscono assolutamente la lista dei clienti di queste società. Di conseguenza, non possono essere sicuri se la società di consulenza suggerisce loro una valutazione, ad esempio, nell'ambito dell'energia, e che per caso hanno un cliente nell'industria dell'energia o del petrolio. Come gestite i potenziali conflitti di interesse? Li gestiamo sulla base di un codice etico internazionale che si applica alla professione in tutto il mondo e che esige un certo numero di regole di indipendenza. Crede davvero che un codice etico sia sufficiente per gestire i conflitti di interesse? Ma non c'è solo un codice etico, ci sono le legislazioni nazionali, quelle europee. Ora credo che ciò che dobbiamo capire è che bisogna essere in due per ballare. Credo sia importante avere un quadro di riferimento sui conflitti di interesse e sui problemi di indipendenza, ma anche di competenza, da parte di chi richiede la consulenza, oltre che dai consulenti, in questo caso da parte del settore pubblico europeo, perché è di questo che stiamo parlando oggi. Aspetta a entrambi fare uno sforzo in questa direzione, fornitori e clienti, ecco perché ritengo che la relazione della Corte dei Conti formuli un certo numero di raccomandazioni che trovo personalmente del tutto appropriate. Sì, perché è necessario chiarire il quadro a livello di istituzioni europee. La palla dunque torna nel campo della Commissione, Commissione che secondo il sistema di trasparenza finanziaria ha speso oltre un miliardo di euro circa dal 2017 al 2021 per le società di consulenza globali, nello specifico Deloitte 240 milioni di euro, KPMG 230, PricewaterhouseCoopers 220, Einstein Young 180 fino a McKinsey 6 milioni di euro. E tra le direzioni più attive c'è quella per le riforme guidata dall'italiano Mario Nava, che offre aiuto agli Stati membri anche sul piano post-pandemico. Noi utilizziamo i consulenti esterni solo e soltanto per fare dei compiti specifici, le cui potenzialità o le cui competenze e professionalità non sono presenti all'interno della Commissione. Questo è il punto centrale. I consulenti esterni vengono a fare solo dei compiti specifici, ma mai e poi mai fanno compiti strategici o fanno compiti di policy making o qualunque altra cosa. Negli ultimi tre anni, essenzialmente da quando sono qua, abbiamo ridotto l'utilizzazione dei consulenti privati del 25%. Quindi questo è il programma che io gestisco. E come mai? I numeri sono a disposizione. C'è più domanda e lei riduce i consulenti esterni? Riduco i consulenti privati, ma abbiamo aumentato la parte che va alle organizzazioni internazionali, la parte che va alle università e ai centri di ricerca e un certo numero di progetti li abbiamo fatti in interno. Una riduzione forse nel numero di consulenti incaricati, ma non nella spesa, almeno a quanto si legge nel sistema di trasparenza finanziaria della Commissione. Dal 2019 al 2021, infatti, non ancora disponibile il 2022, le big della consulenza ingaggiate dalla DG Reform sono costate 29 milioni di euro nel 2019, 36 milioni nel 2020 e 40 milioni nel 2021. Ho chiesto allora copia dei contratti per capire meglio la relazione fra Commissione e società di consulenza e... Questo però è quello che noi riceviamo. Secondo lei questo è qualcosa che noi possiamo leggere e capire come funziona. Non abbiamo nessun annesso ed è completamente oscurato. Io le chiedo sinceramente, non so se si ricorda... Forse lei non ha capito una cosa, che quando lei fa una domanda di accesso agli atti, la risposta che lei ottiene è la risposta che segue il regolamento europeo fatto dal Consiglio del Parlamento. Questo l'ho capito. Quindi io sto rispettando, nella mia risposta, sto rispettando la legge. Io non posso rispondere in base a quel che mi sembra o non mi sembra. Io rispondo in base alla legge, faccio il funzionario pubblico e rispondo in base alla legge. Detto ciò, se lei ha il contratto, sul contratto appaiono tutta una serie di informazioni che le possono essere utili. Ha altre fonti di informazioni che sono il Financial Transparency System. Questo è quello che la legge ritiene che vada bene come risposta. Come a dire, questa è la legge che vi piaccia o no? Punto. E questi però sono alcuni fra i contratti che ho ricevuto. A parte il costo, i contraenti, la data, il nulla, nessun allegato e descrizione delle attività. Ancora una volta è questa trasparenza? Lo stesso Parlamento europeo non ne è del tutto convinto se, tra il 2020 e il 2022, in ben cinque occasioni ha interpellato il commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio, l'austriaco Johannes Hahn, secondo il quale, tuttavia in poche righe, non si registrava alcun problema. Insomma, le grandi società di consulenza sostengono singoli governi e la Commissione europea. da anni. E non lo fanno tanto per i compensi o i contratti, in realtà meno sostanziosi di quelli che hanno nel privato, ma per l'influenza che ne deriva verso eventualmente altri loro clienti e al proprio interno. Questo fenomeno coinvolge da anni le istituzioni e va ben oltre fino alle organizzazioni internazionali e in molte agenzie ONU. Il 3 febbraio 2022, la direttrice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a Ginevra, Ingosio con Joy Weala, informava con una lettera agli stati membri di una novità. Abbiamo istituito un'unità di trasformazione e assunto una delle nostre collaboratrici senior, la signora Victoria Donaldson, come responsabile della trasformazione. Lavorerà con il personale per implementare i processi di cambiamento, il tutto con il supporto del team McKinsey. Una lettera di cui sono venuto in possesso e che ha fatto cadere dalla sedia più di un ambasciatore. Il segretariato, ovvero il cuore esecutivo dell'organizzazione, la struttura che aiuta la direttrice nelle sue funzioni, che prepara i documenti e gli eventi per le successive discussioni con gli stati membri, beh, stava per cambiare e McKinsey avrebbe consigliato come farlo. Come direttrice potevo dire, dobbiamo fare questo, questo e questo, ma è sempre bene avere un altro parere, un parere professionale su come si sta operando. E così abbiamo aperto una gara seguendo le regole. E McKinsey ha vinto e ci ha aiutato a rivedere la situazione per assicurarci di essere al passo coi tempi nel segretariato. Quanto ha pagato McKinsey per questo studio? Può chiederlo a McKinsey, non è una cosa nascosta, cioè ma non è usuale. Io lo sto chiedendo a lei. Sì, se vuole sapere qualcosa, voglio dire, se vuole saperlo saremo felici di dirglielo. L'ho chiesto allora all'OMC e a sorpresa, i termini dei contratti di appalto sono riservati e noi siamo obbligati a rispettarli. Credo che ne siate già consapevoli. Non siamo in grado di rendere disponibile la signora Donaldson per un'intervista. Mentre McKinsey? Come già detto, è prassi consolidata di McKinsey come consulente di fiducia e spesso un obbligo contrattuale non discutere di ciò che McKinsey fa per i suoi clienti e se McKinsey lavora o non lavora per una società. In compenso, sfogliando il rapporto finanziario dell'OMC 2021, ho trovato una prima parziale indicazione, ma solo per quell'anno. Alla voce consulenze, le spese riguardano la diagnosi di revisione strutturale del segretariato dell'OMC 400.000 franchi. Probabilmente McKinsey non dirà nulla, lo sa, ecco perché chiede un'organizzazione pubblica. Ma perché lo chiede alla direttrice? Perché l'OMC ha ingaggiato McKinsey. Gli abbiamo ingaggiati perché hanno fatto un'offerta, non si può bloccare nessuna azienda. Le nostre regole non dicono di impedire a un'azienda di fare offerte. Sono state seguite regole rigorose e hanno vinto. E non capisco perché ci si fissi su di loro. Hanno vinto, hanno fatto il lavoro con competenza e qualsiasi cosa venga fatta è sotto gli occhi di tutti. Ma come spiega il fatto che molti membri non erano contenti quando ha proposto questo piano? Che sono rimasti sorpresi quando ha inviato una lettera sul piano McKinsey? Non è vero che i membri non erano contenti. All'inizio ho dovuto informarli sulla trasformazione. Questo è ciò che stiamo ancora facendo e non è qualcosa che posso fare da sola. Ha condiviso il piano con loro? Ne ho assolutamente parlato al Consiglio Generale e può consultare i verbali. Sono stati informati. Ora c'è stato un problema. Alcune persone volevano che il rapporto fosse reso pubblico. Ho risposto che è molto insolito che un rapporto interno a un'organizzazione venga reso pubblico. Un rapporto per consentirle di rafforzarsi, che contiene informazioni che potrebbero essere pregiudizievoli per i membri dello staff. Non credo che nessun leader lo farebbe. Morale del piano di trasformazione, gli stati membri dell'OMC, da noi contattati, hanno ricevuto un primo documento solo un anno e mezzo dopo, ma non hanno mai ricevuto lo studio McKinsey. Nel frattempo non sono mancate richieste di chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda la terza fase del piano, che includerebbe la definizione dei valori, della visione, della direzione strategica del segretariato e soprattutto di quanta e quale autonomia potrà o dovrà godere il segretariato in futuro. Di questo, purtroppo, si sa poco o nulla. Ma al di là del costo, di quale trasformazione stiamo parlando? E quale impatto potrebbero avere i consulenti su questa organizzazione che detta le regole della globalizzazione, di cui le società di consulenza sono da decenni alfieri fidati? Di questo, ma soprattutto di un'altra organizzazione internazionale, abbiamo cercato delle informazioni e abbiamo parlato con Julian Eccle, professore dell'Università di San Gallo, coautore di un nuovo studio, di un nuovo documento fresco di stampa, l'economia politica delle società di consulenza nei processi di riforma, il caso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A livello molto generale, direi che certamente le società di consulenza vogliono espandere i propri mercati. Per loro è un'ottima cosa lavorare sempre di più con le organizzazioni internazionali. E in secondo luogo, l'obiettivo è quello di dimostrare che il loro tipo di conoscenza e il loro modo di fare è rilevante in tutto il mondo e in tutte le situazioni. Quindi è un bene per la loro immagine e per la loro autorevolezza poter dire non forniamo consulenza solo ad aziende, ma anche a organizzazioni internazionali e governi. Tra il 2019 e il 2021, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto aiuto alle principali società di consulenza per diversi milioni, dai 14 milioni di dollari per Boston Consulting Group ai 9 per McKinsey fino ai 100 mila dollari per Accenture, per un totale di quasi 28 milioni di dollari in tre anni. Direi che una criticità fondamentale è il modo in cui le società vengono poste sotto contratto e direi che la concorrenza davvero non funziona. Dipende tutto da reti personali e da persone specifiche che si conoscono tra loro. Una volta che hai lavorato con l'OMS, è più probabile che tu ottenga un successivo contratto. Un altro problema menzionato dallo stesso odite esterno della stessa organizzazione è quello dei conflitti di interesse, ad esempio una società di consulenza che consiglia sia l'industria farmaceutica che l'OMS, quando quest'ultima invece dovrebbe avere un occhio critico su alcune di queste aziende farmaceutiche. Un altro esempio dagli odite esterni degli ultimi anni? L'azienda assisteva all'OMS nell'acquisto di dispositivi di protezione individuale, senza la dovuta approvazione, anche se ciò comportava un pagamento di 2,53 milioni di dollari. Il ruolo dell'azienda nell'approvvigionamento costituiva un conflitto di interessi, poiché l'azienda forniva assistenza sia all'OMS sia al fornitore. E ancora, all'inizio della pandemia, il consulente A ha offerto servizi pro bono. Il costo totale dell'incarico era di 7,3 milioni di dollari, di cui il 55% a carico del consulente, il 35% dell'OMS e circa il 10% della fondazione Bill & Melinda Gates. Il coinvolgimento del consulente A nel processo di appalto, in cui l'azienda stessa era un'offerente, rappresenta un conflitto di interessi. Mi sposto quindi di pochi chilometri, direzione Organizzazione Mondiale della Sanità. Quello che pochi sanno è che l'OMS può contare su un finanziamento obbligatorio degli stati membri pari a quello dell'ospedale universitario di Ginevra. Eppure è stata la cabina di regia durante la pandemia e dovrebbe garantire la sanità a livello mondiale. Dei 7 miliardi di dollari circa del budget 2024-2025, uno soltanto è obbligatorio. Gli altri 6 miliardi sono invece finanziamenti volontari e in parte vincolati alle intenzioni del donatore, come ad esempio la Bill & Melinda Gates Foundation, il secondo benefattore OMS per anni. Parola di Nicoletta Dentico, direttrice del programma di salute globale per la Society for International Development. Le società di consulenza lavorano moltissimo con i privati che stanno già dentro l'organizzazione. Ne cito uno che è il grande elefante della stanza, la fondazione Bill & Melinda Gates, che peraltro paga anche molti di questi consulenti che lavorano presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, spesso anche in deroga o in violazione dell'accordo FENSA, che è questo tentativo dell'OMS di regolamentare il ruolo dei privati dentro l'organizzazione. I conflitti di interessi sono a vari livelli. Se è un privato che già paga il consulente e non l'organizzazione, abbiamo un potenziale conflitto di interesse. Ma poi è proprio un web, è una rete di relazioni, di una connessione tra poteri che interagisce tra loro. Spesso a discapito dell'organizzazione che in un certo senso riceve il pacchetto e non altre alternative se non prenderlo, perché poi è l'unico finanziamento alla riforma che gli arriva. La Fondazione Gates ha inoltre finanziato e fondato due organizzazioni private che hanno avuto un ruolo centrale e controverso durante la pandemia, Gavi Alliance e Cepi. Cepi e Gavi sono queste nuove creature nate negli ultimi vent'anni, più o meno, Gavi è nata prima di Cepi, che sono partenariati pubblico-privati. Cioè una sorta di ibridazione istituzionale fra pubblico e privato, ma sono legalmente fondazioni di natura privata. Sono finanziati da privati, al loro interno hanno anche alcuni governi, ma hanno prevalentemente il settore farmaceutico, il settore finanziario e li finanzia prevalentemente la Fondazione Gates. Ho chiesto a Gavi Alliance un'intervista, ma niente. Una volta anticipato l'argomento, l'iniziale disponibilità è svanita nel nulla. A suo posto ho ricevuto una dichiarazione per iscritto. Gavi si avvale di consulenti solo quando è assolutamente necessario per fornire consigli e supporto indipendenti e imparziali per aiutare Gavi nella sua missione. I consulenti di gestione non fanno parte del processo decisionale di Gavi. Nella sua esperienza, qual è il ruolo di queste società di consulenza? È un ruolo immenso. È un ruolo grandissimo, che non è arrivato adesso. È da anni ormai che, non solo dentro l'OMS, ma dentro tutta l'ONU, McKinsey in particolare, è entrata. Il ruolo, per la mia esperienza, è quella di avere sostanzialmente, come dicevo, riorganizzato la governance, frastagliato ulteriormente e tolto, in un certo senso, quello spirito collaborativo che dovrebbe essere l'essenza principale del funzionamento di un'entità pubblica, per farla invece lavorare secondo il mercato dei finanziamenti per la salute globale. E questo è deleterio per l'organizzazione. Nel nostro rapporto abbiamo studiato in dettaglio il caso della riforma del partenariato per la lotta contro la malaria, dove un gruppo di consulenti McKinsey sono stati pagati dalla fondazione Gates e offerti all'OMS per prendersi cura del processo di riforma. Ma è stato chiaro sin dall'inizio che i consulenti McKinsey erano in rapporti molto stretti con la fondazione Gates che li pagava, ma anche con una parte di promotori di una riforma, diciamo, radicale che avevano già un'idea ben precisa su questa riforma. Infine, avrei voluto lasciare l'ultima parola proprio all'OMS, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha categoricamente e più volte rifiutato l'intervista. La ragione? Dobbiamo rifiutare poiché le domande non possono essere risolte da una sola persona in quanto riguardano aree diverse. Eppure, proprio nel momento in cui l'OMS sta discutendo il nuovo accordo per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle future pandemie, sarebbe stato importante affrontare i nodi ancora irrisolti del finanziamento dell'organizzazione e del conseguente impatto di privati e consulenti sulle riforme dell'OMS, se proprio il suo direttore alla passata 148esima sessione del Consiglio Esecutivo dichiarava. In una sola frase l'idea centrale è quella di preparare l'organizzazione per il futuro, per fare dell'OMS un'organizzazione del futuro e per questo abbiamo incaricato diverse società molto note per aiutarci a costruire tutto perché non volevamo farlo senza il supporto degli esperti. Già, gli esperti del cambiamento, consulenti reclutati nelle migliori università, manager brillanti con ottimi compensi e carriere che non sembrano finire mai, pronti a collaborare con i governi di mezzo mondo in modo più discreto come nel caso della Svizzera o pervasivo come in Francia, con la Commissione Europea o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, con le Big Pharma e parallelamente con l'OMS. Proprio mentre i conflitti di interesse e l'influenza di cui sono capaci sono lì, dietro l'angolo o dietro un semplice omissis, nei corridoi delle relazioni con i loro clienti fra le righe di qualche rapporto nascosti dalle buone intenzioni e miliardi di dollari. Nelle società di consulenza globali insomma si sa tutto tranne quello che dovremmo sapere. Di chi chiede il loro aiuto, istituzioni pubbliche in primis, sappiamo che non possono più farne a meno. E sullo sfondo i dubbi sollevati fin qui ancora da sciogliere completamente per sapere una volta per tutte chi e come ha davvero preso una decisione prima, durante e soprattutto dopo la pandemia. a Grazie a tutti.